Benvenuti, sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Siamo qua nella Casa degli Italiani, Restart, oltre alla crisi il classi italiano. Questo ottuno e questo inverno ripartiamo ad ascoltare le storie degli imprenditori e delle loro imprese. Vero Giusy? Sì, proprio così. Ripartiamo e saranno nostri ospiti ancora le imprese del territorio, quelle che sono le eccellenze della nostra economia. Potrete seguirci ogni mercoledì sera, dalle 18.30 alle 19, sul canale 810 di Sky e in streaming su www.welltv.eu Continuate a seguirci, la parola è ripresa, ripartenza e fiducia. Vi aspettiamo qui su Well TV.